un saluto da parte mia amici e buon giovedì ci stiamo avvicinando all'estate ormai siamo al giorno 16 il clima è praticamente in piena estate già forse da oltre 15 giorni e questo è il mio orto qua le zucche adesso ovviamente i fiori di zucca che questa mattina sono stati raccolti ce ne sono tanti qui fagiolini eccoli qui lattughe ancora fagiolini cipolle il sedano e scusate il basilico che è sparso un po di qua un po di da altre altre lattughe e altri fagiolini qui invece ci sono cetrioni già li ho mangiati sono sono buoni e più in là anche qualche melona e da questa parte invece abbiamo messo i pomodori gran parte di questi pomodori sono tutti a sole vedete beh farsi anche i pomodori peperoni c'è di tutto qui già stanno fiorendo significa metterlo in quel posto a draghi quel pezzo di merda eccolo qui io non me ne frego se mi chiudo nel canale lo chiamo per nome per quello che è una persona inutile un individuo freddo spregevole e qui ci sono i pomodori con le canalizzazioni modo che non c'è uno spreco d'acqua ma ci sono i goccioratoi cosiddetti goccioratoi i pomodori vengono addirittura meglio anche perché il segreto del goccioratoio che è acqua ammirata ma nello stesso tempo fa sì che non cresca tra un solco e l'altro ciao donato un abbraccio non l'erba e beh lavorare un po in estate mettersi in forma farsi se c'è la terra se avete la terra e qui ce n'è tante uno spreco almeno non fare qualcosa e una volta diceva il babbo nella nostra terra di pulizia sanfiri giulio cosa fai gli chiedevano e il babbo beh c'è un po di terra almeno se non pianto due patate ed eccole qui le patate eccole qui sono venute bene soprattutto perché in questi giorni ha piovuto è stata una pioggia necessaria ormai non pioveva da tempo ne ho fatta tanta ma soprattutto per le patate che di colpo sono venute bene speriamo che non mi facciano nella paglia subito perché quando poi la come dire la parte in superficie di questo tubero diventa paglia e questa paglia appiora troppo presto cioè si brucia si le compone patate sotto ce ne sono poco almeno se le patate per noi che le facciamo senza senza azotati concimi chimici artificiali quindi speriamo che ovviamente vengano su da sole il prodotto sarà un po più piccolo ma sarà comunque un prodotto fisiologico naturale perché bisogna puntare soprattutto beh un tempo non c'erano le patate di oggi le melenzane gonfiate dagli ormoni e quindi le persone ai miei tempi erano rare le persone che morivano di cancro non c'erano assolutamente le neoplasie poi ovviamente con l'effetto perché dobbiamo dirlo l'effetto è stato quello delle bombe americane di Hiroshima e Nagasaki l'effetto devastante del cesio della radioattività ha cominciato un po' a contaminare tutto il mondo perché si sganciarono delle bombe di inaudita potenza poi abbiamo avuto cernobil ma prima di cernobil abbiamo avuto le sperimentazioni a cera aperto della francia dell'inghilterra degli stessi stati uniti d'america che facevano esplodere ordigni di elevata potenza nucleare addirittura nel deserto del nevada non se ne parla più ma io li ho vissuti li vedevo addirittura per televisione queste sono melenzane e da allora il mondo si è contaminato e cambiato poi al di là del fatto che noi ingeriamo tutta una serie di farmaci durante la nostra esistenza non badiamo al fatto che ogni farmaco abbia purtroppo una controindicazione nello stesso tempo siano devastanti per altre parti dell'organismo alla fine dopo 10 20 30 anni di farmaci ne paghiamo lo scotto vengono a riscuotere i danni che hanno fatto ma sovente lo fanno anche prima qui di fronte c'è serre campagna e da questa parte di fronte c'è il mare voi non lo vedete perché il telefono non lo permette ma dietro queste colline nella stessa direzione c'è pesto ma quindi poseidonia qui passarono i greci i romani insomma i turchi gli arabi i fenizi quindi un po di tutto i romani in modo particolare queste sono state colonie romane inseriamente romani come siciliano che anticamente si chiamava sicilius e va bene ci siamo tenuti compagnia per per qualche minuto nell'orto anti draghi noi dobbiamo costruirci la nostra vita contro draghi i suoi amici queste mafiose finanziarie americane italiane perché i collegamenti sono dappertutto e ma dobbiamo scendere in piazza per sopravvivere bisogna protestare è inutile stare in casa utilizziamo il telefono faccio io per dire cazzate i mattarella e le fai dei siciliani vanno cacciati a calci nel sedere questi finti padri della patria questi buonisti e canuti che sembrano usciti da una nuvola del paradiso a questi san pietro che prenderebbe a calci li butterebbe fuori senza paracadute un saluto da alfredo iuriano e buon giovedì siamo a cavallo della semana dicono gli spagnoli vicino quindi alla domenica oggi sarebbe tempo di mare di nuovo ciao donato daniela antonietta giovanni giovanni che fa un orto migliore del mio a san pietro ti abbraccio ciao